Giuseppe, una insalata? Che vuoi? Eh, mozza, che fai? Oh ma, hai chiesto usare la spatula? No! Allora, perché se hai chiesto 1 kg? A me è buono! Ma hai bisogno di andare tutto sopra la voglia? Come hai bisogno di andare con la palla? E mangiala! Non posso, questo è troppo amaro! Che andava cagando? Se mi sa le trucche, un ridicolo e la Cecoria! Bella cosa! Giuseppe, le cose amare delle leccane! Quanto cari non hai questa cosa amare? Fitto! È un ucciso, ma non puoi essere un balsamico! Oh, io! Che ti pare che sono gli soldadini? Io uso vino di casa! Ma parlo vino del papà? Eh, che ducchius停o?!